Grazie. 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 Vorrei sentire? Sono oggi. Sì, sì, questo è il secondo volume. E quindi quando si imbarcavano e andavano poi nel mondo, insomma, e quindi con lo spaccato del primo novecento e anni seguiremo. Gli ali che producono, eccetera, quindi la tecnologia, ma ancora tanta fatica e tanto rischio a tutto. Quindi... Quanti sono? Ma al monte sono circa 500-600 operatori. Purtroppo la vendita anche della materia prima nel mondo e soprattutto in... E' una specializzazione che si trasmette di generazione in generazione. La tecnologia aiuta, ma la sensibilità di esperienza, i gesti che vengono ereditati anche dal passato. E quindi anche le macchine vengono comandate da terra con gesti che si tramandano in silenzio. E quindi avrà modo, quando avrà tempo, di riportare la sua... ... ... ... ... ... ... ...